C'è ancora da attendere per il nome del candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del prossimo 10 febbraio. Sull'esponente di Fratelli d'Italia Marsilio si registrano infatti ancora gli strali di una parte della coalizione. Forza Italia continua a manifestare infatti le sue forti perplessità nonostante da Roma sia arrivato l'ennesimo key sul nome dell'esponente del partito di Giorgia Meloni. Ma dal coordinatore regionale di Forza Italia Nazario Pagano è arrivato l'ennesimo niet con la risposta piccata del coordinatore abruzzese di Fratelli d'Italia Sigismondi proprio a difesa della candidatura di Marsilio. La Lega sta a guardare preoccupata ma sulla possibilità di uno slittamento delle elezioni regionali da febbraio a maggio voluto proprio dal centrodestra Bella Chioma ha smentito seccamente. In tutto questo prosegue intanto la campagna elettorale di Fabrizio Di Stefano con alcune civiche al suo fianco. Entro fine settimana però arriverà la parola fine sul balletto di nomi. Più chiara la situazione nel centro-sinistra. L'ex vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini ha affidato ad un comunicato stampa le sue riflessioni sulla possibile ma ormai a questo punto quasi certa candidatura presidente della regione non restando insensibile all'appello di 162 sindaci che hanno individuato nella sua persona quella giusta per guidare la regione. Al lavoro infine già da tempo per il Movimento 5 Stelle Sara Marcozzi riuscita a coagulare attorno al suo nome le varie anime pentastellate.